Eptismo feste dei quattro, siamo giunti verso la conclusione del questo Epti in Austria, siamo rimasti in 24, oggi ci sarà anche il tavolo televisivo con la diretta, con la telecolonica inglese che potrete seguire sul pochi d'Italia web. Solo un italiano rimasto, eccolo qua, il nostro Luca Reinelli, che partirà dal tavolo televisivo dove c'è anche il Giovanni Straffman, un tavolo televisivo molto interessante, con dei bei giocatori, qui abbiamo anche l'estrizzolo, non ricorderò mai il nome, che ha fatto il team anche a Berlino. Il giocatore francese del team Guida Max, che ha eliminato quel 10 al river, i due nostri italiani che via e basta, basta scoppiandoli di assi. La particolarità di questo graffittismo feste è principalmente in un nuovo tavolo televisivo, che è diverso dal solito, con le camere messe così, invece dell'occhiolino appoggiato sul panno nero. Questi sono gli altri due tavoli di nostri in gioco, che abbiamo oggi, con dei cipollini che non ricorderò mai noi. Per passare all'altro tavolo dove troviamo l'altro big piano in gara, ovvero Maxi Lipo vincendo la DLVPT Kiev di quest'anno. Lontananza c'è anche Toto, che è saluta in questo momento persa. Diciamo che oramai è tutto pronto per la partenza. Di questo dei qua, speriamo che Luca ci faccia sognare.